L'ex sindaco di Bolzano Giovanni Ivan Benussi torna in campo e rilancia la sua candidatura a primo cittadino del capoluogo. Benussi, già eletto nel 2005 con la lista Benussi, sostenuta da Forza Italia, Alleanza Nazionale e PRI, è ribattezzato il sindaco di maggio che stamattina di fronte al cippo degli esuli istriani ed almati, a lui molto caro, ha ufficializzato la sua candidatura, presentando anche il simbolo che lo accompagnerà in questa sua nuova avventura politica. La decisione, penso di averla espressa più volte, è sempre quella di essere al servizio di quelli più deboli, quindi al servizio dei cittadini, di tutelare gli interessi della nostra città, andando uniti da italiani, tedeschi, ladini, tutti insieme a ragionare su quali sono i problemi della nostra città, come risolverli senza avere bisogno che qualche finanziere o qualche politico venga ad insegnarci come gestire la nostra città. Quindi io mi pongo al di là dei partiti, al di là degli schieramenti, non contro qualcuno ma per qualcuno e per qualcuno in questo caso sono i miei datori di lavoro, che sono i cittadini di Bolzano. Quindi ricostruire un piano regolatore che abbia un significato per i tempi attuali, ricontornare nel discorso del commercio, riuscire a domandarci il perché ci sono un sacco di negozi chiusi, perché i grandi magazzini che vengono aperti dopo un poco si svuotano e ne continuiamo a costruire degli altri, del perché forse i politici non ci sono resi conto, quello che è apparso l'altro giorno sul giornale, che una famiglia su tre non ha i soldi per finire il mese. Allora io questo dovrei pensare. Tra i temi molto sentiti dal candidato Benussi, quello della sicurezza. Non è ammissibile che si veda sul giornale di persone che vengono rapinate per la settima, ottava volta e sono lasciate sole. Persone come qui a Bolzano, commesse che vengono bastonate, persone che vengono arrestate e dopo due giorni vengono rimesse in libertà. Questo non è garantire la sicurezza. Poi ci stupiamo che nel Veneto, che fino a due anni fa si stava con le porte aperte, la gente si arma per difendere la propria famiglia, ma ci rendiamo conto dove stiamo precipitando, intanto che i politici si preoccupano soltanto se stanno all'opposizione o se vanno al governo. Il moderato Benussi sarà appoggiato da Casa Pound Bolzano, ma lui lascia aperte le porte a chi vorrà sostenere la sua candidatura. Io ho spalancato le porte, signori, siamo qui, attendo risposte da parte di chi vuole dimenticare la propria maglietta, la propria scritta, il proprio numero di ruolo e cominciare finalmente a pensare ai padroni di Bolzano che sono i cittadini e mettersi al loro servizio con umiltà e dedizione.